Ha ciucciato un po' di vino Ha fatto così Nel bicchiere Mi hai già avuto sonno Ha dato due bambini Dove gira? Guarda come bicchiera Bollin 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 Ti lascio la chiesta Ti lascio la chiesta Ti lascio la chiesta Cosa ti fa? Guarda un caso Ti lascio la chiesta Io voglio fare una cosa Già Quello è tutto Quello è Dove bisogna fare dei pezzetti piccoli Tu è una bomba Fuca se si vede a fare dei pezzetti piccoli No E una bomba E una bomba E non c'è la mia E non c'è la mia E non c'è la mia Non c'è la mia Non c'è la mia La mia La mia La mia La mia Sul microonde Siccome mi sono accennata E' una povera vechierella Oh no Oh no Oh no Lo sa che stasera è su Facebook. Io no. Sì, sì. È un video, eh. È un video, sinceri. Ma andiamo alla popolissima. Fai il giro del mondo. Va anche in Giappone. No, io il video in quattro mi sento la video. Bello, Nukas. Certo. Non ho detto che la mia mia... Ma puoi sentare le vene che hai già il braccio mondo? È un bucchetto, è un bucchetto. È un bucchetto, è un bucchetto, è un bucchetto, è un bucchetto. È tanto triste. Guarda Molli con le mani. Bello, così con le orecchie dritte. È tanto, sono io in braccio, e te ti tocca solo con la mano, e io sono in braccio. Adesso non ne abbiamo dei cucchiaini a sufficienza. Se no mangiamo con le mani. Molli ha detto che non ne ha bisogno di un cucchiaino. Non ne ha bisogno di un cucchiaino. Consiglia di fare i quadratini per via delle... Pochissimi e felleri. E poi, e poi... Ho fatto fette piccole. E poi ci vorrebbe anche l'elicoso, appena lo ci sarà vero sopra. Eh, è un piccolo vero. Sì, sì, sì. Ma è vero, è vero, sì. Ma io anche non l'ho visto. Certo, certo. Fai un ritocco. Come mai eser il polo? Ehm... Ehm... La metti? Ma io non la mangio. Esatto, io non la mangio. Ma ma... Ma quanti tanti io sono rimasta? Tanti. Grazie a tutti.